Benvenuti al consueto appuntamento con le anticipazioni degli argomenti principali che tra poco vedrete a Triss Telegiornale. Elezioni amministrative, oggi la giornata del silenzio, poi domenica e lunedì si vota in 128 comuni siciliani. Il presidente della regione siciliana Schifani sul Camcom, sfidiamo i campanilismi. Ospedale civico di Palermo, una donna aggredisce i medici e il personale sanitario. Sede ambientalista, rifiuti davanti alla vetrina di Natura Sicula che protesta con il comune di Siracusa. Lo sport con il calcio, eccellenza, siamo alla vigilia dei playoff, domani Siracusa Ercolanese, andata della semifinale nazionale. Tutto questo ed altro tra poco sul canale 85 di Triss, ma adesso, linea alla regia per i consigli. Vuoi acquistare due paia di lenti di diverse idiotrie? Non comprarne due, quello che ti serve sono lenti progressive che adattano la visione a diverse distanze. E ottica Quartarone propone solo lenti certificate di alta qualità del marchio Galileo. Hai bisogno di proteggere la tua vista in diverse condizioni di luce? Abbiamo le lenti fotocromatiche Transition, che diventano automaticamente più scure al sole. E se vuoi acquistare un paio di occhiali da sole, ricorda che ottica Quartarone è esclusivista del marchio Rocco Barocco a Siracusa. Non vuoi pagare subito? Nessun problema. Vieni a trovarci per scoprire come pagare a piccola rata al mese, a tasso zero. Ottica Quartarone ti aspetta in Viale Luigi Cadorna, 31-33, a Siracusa. Se hai un ISEE inferiore a 10.000 euro, usufruisci anche tu del bonus vista. 50 euro una tantum per ogni membro del nucleo familiare. No, bambini, non si può avere tutto dalla vita. Sennò mica stavo con mamma. Non si può avere tutto dalla vita, o perlomeno non sempre. DR 4.0, full optional di serie e tua a 19.900 euro in pronta consegna. Nova Auto, concessionaria Evo e DR. Via Elorina 130, Siracusa. Qualità, professionalità e tecnologia sono le caratteristiche che contraddistinguono Physiorem Medical Center, una struttura polidiagnostica con più di 10 anni di esperienza, specializzata in diagnostica radiologica e riabilitazione fisica, che si serve di attrezzature e strumentazioni all'avanguardia. Il sistema di risonanza magnetica OpenMark 5000 rappresenta la nuova generazione di risonanza magnetica a medio campo. Questo sistema combina le elevate prestazioni dell'alto campo con il vantaggio di un'architettura aperta. Questo permette di ridurre sensibilmente la sensazione di ansia del paziente. Dotarci di questo macchinario ci permette di ampliare la domanda di esami diagnostici per quanto riguarda l'osso articolare. Adesso riusciamo a dare anche un'offerta per quanto riguarda la parte neuro. Physiorem Medical Center. La trovia a Siracusa. Rieccoci studio. Benvenuti a questa edizione del telegiornale. Come avete ascoltato dalle anticipazioni, siamo alla giornata del silenzio elettorale per le elezioni amministrative in Sicilia. Domenica e lunedì si vota e si va alle urne in ben 128 comuni. Vediamo il servizio d'apertura. Sono in tutto 128 i comuni siciliani che domenica e lunedì voteranno per eleggere i propri sindaci e rinnovare i consigli comunali e circoscrizionali. I seggi saranno aperti domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. 1.387.169 sono gli elettori chiamati alle urne in 113 centri fino a 15.000 abitanti. si voterà con il sistema maggioritario in 15 comuni nei quali l'eventuale ballottaggio si terrà l'11 e il 12 giugno con quello proporzionale. I consiglieri comunali da eleggere sono 1.646 e le sezioni elettorali che saranno costituite sono 1.579 in tutta la Sicilia. L'elettore può esprimere una o due preferenze nella stessa lista ma di genere diverso, una femminile e una maschile. Il voto espresso per una lista si estende al candidato sindaco a essa collegato e non viceversa, il cosiddetto effetto trascinamento. Prevista anche la possibilità di voto disgiunto che rende libero l'elettore di votare separatamente per un candidato sindaco e per una lista a questo non collegata. Tra i 128 comuni chiamati alle urne ci sono 4 capologhi di provincia, Catania, Ragusa, Siracusa e Trapani, oltre ad altri 11 grossi centri come Licata, AC Sant'Antonio, AC Reale, Belpasso, Biancavilla, Gravine di Catania, Mascaluccia, Piazza Armerina, Comiso, Modica, Carlentini. 5 i comuni attualmente commissariati, Catania, Aidone, Trabbia, Modica e Priolo. Al voto anche Barra Franca che nell'aprile del 2021 è stato sciolto per mafia. In occasione dello spoglio di lunedì Tris ha previsto una trasmissione in diretta che parte intorno alle 15 per seguire punto per punto lo spoglio per i candidati sindaco della città di Siracusa, anche delle altri comuni in cui si vota nella provincia retusea e per quanto riguarda le principali città, capoluogo di provincia della Sicilia. Appuntamento quindi intorno alle 15 di lunedì per questa non stop elettorale. Il Governo ha applicato la norma che consente alla Regione siciliana di intervenire per il riordino delle Camere di Commercio. Il Governatore dell'Isola Renato Schifani replica le accuse lanciate da diverse parti. Vediamo. Il Governatore Schifani difende l'adozione del sistema di riordino delle Camere di Commercio nonostante la levata di scudi da più parti contro il provvedimento adottato dalla Giunta il Presidente della Regione sostiene di aver applicato una norma che fino ad oggi i precedenti governi non avevano utilizzato che prevede che la perimetrazione delle Camere di Commercio sia facoltà del Governo regionale. Fino ad ora, detto Schifani, i governi regionali non avevano avuto il coraggio di decidere. L'accorpamento delle Camere di Commercio di Catania, Siracusa e Ragusa ha creato polemiche soprattutto a Siracusa da parte del centro-sinistra e non solo. Attenzione, dice Schifani, non dobbiamo seguire campanilismi, ho seguito un criterio di omogeneità di zona industriale, di zone produttive e ho proceduto ad aggregazioni. Ora qualcuno mi deve spiegare che differenza c'è tra Catania e Siracusa distanti solo 60 chilometri. Cosa c'è di diverso sotto il profilo della densità produttiva? Dice ancora Schifani, sono zone vicine. È evidente che vivono uno stesso abitato industriale e naturale che debbano andare assieme. Discorso però rinviato al tavolo tecnico, convocato per martedì prossimo a Roma dal ministro Urso, al quale parteciperanno tutte le organizzazioni territoriali e datoriali, escluse in prima istanza. Siamo alla cronaca adesso. Una donna è andata in scandescenze all'ospedale civico di Palermo e ha aggredito i medici e il personale sanitario. È stata arrestata dai carabinieri. Ha accusato i medici di essere lenti nel soccorrere i pazienti e così è andata in scandescenze. È accaduto all'ospedale civico di Palermo, dove sono dovuti accorrere i carabinieri della sezione Palermo-Reto che hanno arrestato una 36enne palermitana. A suo carico l'accusa di interruzione di pubblico servizio, danneggiamento, lesioni, minacce e violenza a pubblico ufficiale. I militari sono intervenuti al pronto soccorso dell'ospedale civico, dove l'indagata, dopo il danneggiamento di alcune attrezzature mediche, ha minacciato e aggredito il personale sanitario di turno, poiché a suo dire è troppo lento nel garantire le cure necessarie al padre 63 enne ricoverato lì. Nel corso dell'aggressione, un'operatrice socio-sanitaria ha riportato lesioni al volto giudicate guaribili in pochi giorni. La donna è stata sottoposta agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida corrito direttissimo. Il GIP di Palermo ha convalidato l'arresto. E proseguiamo con le notizie di cronaca. Catania, a mano armata, aveva rapinato un bar a San Giorgio, poi è stato arrestato. Si tratta di un catanese. Vediamo il servizio. I carabinieri della tenenza di Mister Bianco hanno dato esecuzione a un'ordinanza cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale Etneo a carico di un catanese, 49 anni, Santo Alessandro Galeano, e accusato di rapina aggravata. Il 7 del mese di gennaio, intorno alle 18, un rapinatore solitario, dopo aver fatto il suo ingresso all'interno di un bar annesso ad un impianto di distribuzione a carburanti, stiamo parlando della strada a Crabone del comune di Catania, aveva minacciato con una pistola semiautomatica le commesse dell'esercizio commerciale per impadronirsi dell'incasso giornaliero. Le due ragazze, in presa al terrore, erano state costrette ad obbedire all'intimazione del malvivente che, con apparente freddezza, aveva provveduto a prelevare il denaro contante della cassa che ammontava 1.500 euro, ma anche alcune stecche di sigarette in esposizione in vetrina. Le fasi della rapina sono state registrate dall'impianto di videosorveglianza ed acquisite dai militari che hanno poi stretto il cerchio attorno al presunto responsabile della rapina. Il modus operandi del rapinatore, che annovera specifici i precedenti giudiziari, anche con il riconoscimento delle sue fattezze fisiche da parte dei militari e dalle stesse vittime del reato, hanno fornito riscontro al lavoro investigativo dei carabinieri. Siamo alla cronaca giudiziaria, perché il GIP del Tribunale di Siracusa ha disposto il decreto di archiviazione della posizione di un professionista coinvolto nell'operazione denominata Gold Trash. I legali hanno preannunciato un risarcimento per l'ingiusta detenzione patita all'inizio dell'inchiesta. Vediamo. Era stato coinvolto nell'inchiesta della Procura di Siracusa sulle presunte serie di reati nell'ambito dell'operazione Gold Trash sulla gestione del servizio di raccolta e smaltimento e rifiuti nel capoluogo all'epoca dei fatti contestati ai dirigenti dell'Igm e rifiuti industriali. Oggi il GIP Federica Piccione ha disposto l'archiviazione del procedimento penale a carico di un professionista, Antonio Antonuccio. Originalmente l'indagato era stato accusato di associazione per delinquere perché avrebbe operato da interfaccia dei prestanomi delle società decotte e terutario delle scritture contabili della società del gruppo. Il giudice ha verificato le produzioni documentali della difesa determinandosi nell'impossibilità di formulare una ragionevole prognosi di condanna nei suoi confronti, non essendoci elementi sufficienti a ritenere che Antonuccio fosse pienamente a conoscenza del sistema di rapporti tra le società riconducibili al gruppo. Per l'accusa l'attività d'impresa sarebbe stata eseguita senza assolvere gli ordini tributari, mentre il giudice, nel caso di Antonuccio, scrive che risulta verosimile che a ragione della sua competenza specialistica avesse prestato unicamente un contributo tecnico-giuridico e avesse percepito compensi correlati a tale attività, anche legata a ricorsi in materia tributaria. Gli avvocati Antonino e Bruno Leone e Costantino Vinci, che difendono Antonuccio, hanno preannunciato il ricorso per il risarcimento dei danni materiali e morali patiti dal professionista, che ha scontato sei mesi di arresti domiciliari e un anno di sospensione dall'esercizio della professione. Cambiamo argomento, protesta, protesta Natura Sicola con il comune di Siracusa, perché si è ritrovata la vetrina, la vetrina stessa della sede di Natura Sicola invasa dai rifiuti. Questa è la sede di Natura Sicola, siamo in Piazza Santa Lucia e quella che vedete è la spazzatura, rifiuti ingombranti che vengono lasciati sistematicamente davanti alla vetrina di questa associazione, guarda caso, ambientalista. C'è un'assonanza oppure un caso? Beh, no, non voglio pensare male, è semplicemente un caso, è semplicemente una disorganizzazione, un mancato collegamento tra l'utente e il comune che dovrebbe far rispettare le regole, perché le regole ci sono ed è l'ordinanza del 2018 sui rifiuti. I condomini del palazzo che confina con noi non tengono conto di questa ordinanza e soprattutto non sono mai stati dotati di carrellati. Sono 16 gli appartamenti, al di sopra delle 10 unità si ha l'obbligo di consegnare i carrellati. Stranamente hanno qualche mastello e conferiscono non solo gli ingombranti ma anche e soprattutto i rifiuti solidi urbani che producono percolato. È un problema che ormai è atafico, insomma parliamo del 2018, ma soprattutto oltre che è un'associazione ambientalista, siamo di fronte alla Basilica Santuario di Santa Lucia. Siamo nel secondo centro storico di Siracusa, dalla vetrina in questione si vede benissimo il sepolcro di Santa Lucia e la Basilica Normanna, siamo a 50 metri di distanza, non mi pare che sia una circostanza che garantisce il decoro ai turisti che vengono qui in migliaia. Il problema è atavico perché risale da quando Siracusa ha organizzato la raccolta dei rifiuti porta a porta, quindi da lontano 2018. Noi come associazione abbiamo sollevato il problema da un anno e malgrado ciò non è successo niente, ma chi c'era prima di noi lo sollevava già dal 2018. Parliamo adesso di istruzione scolastica e di istruzione in sinergia tra la regione siciliana e l'ufficio scolastico regionale contro la dispersione scolastica, i particolari in questo servizio. La regione siciliana e l'ufficio scolastico regionale hanno presentato ai dirigenti scolastici degli istituti professionali statali e di istruzione superiore con indirizzo professionale l'offerta formativa sperimentale per il quarto anno. L'azione prevista dal recente avviso pubblicato dal Dipartimento regionale dell'istruzione rivolta agli enti di formazione accreditati riserva l'attuazione in via sperimentale di 45 corsi per favorire il rientro degli allievi al quinto anno dei relativi percorsi di istruzione secondaria di secondo grado. Su input dell'assessore regionale dell'istruzione è stata prevista una linea d'azione destinata a favorire una progettazione integrata e non in sovrapposizione con l'offerta degli istituti professionali statali e improntata a una diversificazione delle figure che al contempo sia in grado di essere adeguata alle sfide dei processi di trasformazione economica e produttiva. Un'importante occasione di sinergia progettuale tra regione e ufficio scolastico regionale che ha come obiettivo il rafforzamento e il raccordo tra la nuova istruzione professionale e l'istruzione e la formazione professionale. Di competenze della regione è già avviato con l'approvazione di un nuovo modello di sussidiarietà per la realizzazione di percorsi IFP che certamente agevola una più incisiva integrazione. La regione siciliana attraverso la sperimentazione di questa progettazione integrata tra istituti professionali statali e entiti di formazione intende mettere in dialogo due attori nel mondo dell'istruzione che così potranno cooperare efficacemente. Siamo allo sport e iniziamo con il calcio. Stamani ultima seduta di rifinitura per il Siracusa. Domani ci sarà da affrontare la forte Ercolanese allo stadio Nicola De Simone. Si tratta della gara d'andata della semifinale nazionale dei playoff. Vediamo il servizio della redazione sportiva. È tutto pronto per l'andata della semifinale nazionale dei playoff. in programma domani allo stadio Nicola De Simone tra Siracusa e Ercolanese. Calcio d'inizio alle 16. Stamattina ultima seduta di rifinitura per gli azzurri molto concentrati per il match di domani che può valere un'intera stagione. Rosa al completo, 24 convocati. Una vittoria importante potrebbe consentire ai calciatori allenati da Cacciola di affrontare con maggiore serenità la gara di ritorno a Ercolano. A dirigere la partita sarà Emanuele Boccuzzo della sezione di Reggio Calabria, coadiuvato dagli assistenti Stefano Kossovic della sezione di Varese e Bruno Dattilo della sezione di Roma 1. Un gruppo che ha grande responsabilità, grande attaccamento prima di tutto per la loro attività e soprattutto per quello che è la nostra maglia. Perciò, da questo punto di vista, sono stati concentrati, hanno lavorato bene, abbiamo lavorato bene. È stato il mio percorso da quando è stato arrivato a Siracusa. È normale che questa squadra ha dovuto per forza di cose sempre inseguire e sempre tenere la concentrazione alta perché inseguire vuol dire non sbagliare mai. A volte magari si vanno a creare delle situazioni che può sembrare nervosismo, ma in realtà è solo quella voglia di ottenere risultati. Noi continueremo a lavorare per come stiamo facendo, sappiamo che è la cosa che proprio non dobbiamo fare è nervosirci, ma sappiamo che all'interno della partita poi ci sono tante partite. Incontreremo una squadra forte, una squadra che lo dimostra il percorso. Sono arrivati quindi in campionato e vermo, poi hanno eliminato rispettivamente Casori e Pompei che erano seconda e terza. Perciò sicuramente sarà una partita tosta, una partita dove vincerà, passerà il turno e chi avrà più voglia, più determinazione e più attenzione. Perché è normale che in questo momento gli errori commessi poi purtroppo magari costano caro e li paghi. Dal calcio alla palla a nuoto, con una novità alla cessione di Simone Rossi, l'Ortigia contrappone un nuovo acquisto. Si tratta di Luca Cupido che arriva dal Barcelona. Il circolo canottieri Ortigia annuncia ufficialmente il primo rinforzo per la stagione 2023-2024. In bianco verde arriva Luca Cupido, proveniente dal CN Barcelona. Si tratta di un attaccante classe 95, molto alto, 1,93 m, pesa 95 kg. Nato a Santa Margherita Ligure da padre italiano e madre americana alla doppia cittadinanza. Cresciuto nelle giovanili della Rarinantes Camogli, alla fine del 2013 si trasferisce negli Stati Uniti, dove, oltre a studiare, gioca nei collegi americani, conquistando il campionato e vincendo nel 2018 il titolo dei miglior giocatore del campionato NCAA. Nel 2019 rientra in Italia, dove, dopo una breve parentesi alla Prorecco, torna alla Rarinantes. Nel 2022 si trasferisce al Barcelona. Luca Cupido, che con le nazionali giovanili italiane ha vinto due ori mondiali e uno europeo, è stato poi convocato dalla nazionale maggiore americana, diventandone un punto fermo in questi anni, disputando con la calotta a stelle e strisce ben due Olimpiadi, Rio e Tokyo, concluse al decimo e al sesto posto. Sono molto contento, ha detto Cupido. È bello essere di nuovo in Italia e potermi confrontare, dopo tanti anni, con il campionato italiano. L'Ortigia ha fatto benissimo quest'anno e nella prossima stagione avremo di nuovo un bel mix di veterani e giovani promettenti. Quindi, visto che alla mia età sono al picco della mia forma atletica, spero di poter contribuire al raggiungimento degli obiettivi che ci porremo per il nuovo anno. E prima di chiudere questa edizione del telegiornale, vi ricordo l'appuntamento con punti a capo. Si tratta della replica, della trasmissione che è andata già in onda alle 14.30. Questa puntata ospite l'avvocato penalista Junio Celesti. È tutto per quanto mi riguarda, grazie per averci seguito, arrivederci e risentirci al prossimo appuntamento. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS